salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono grace proseguiamo la nostra avventura sportiva con il gioco di valentino rossi the game allora vediamo cosa ci propone oggi il nostro amico valentino vediamo un po allora email c'è sempre la tipa ok solite due email abbiamo allora vediamo un po cos'è che ci dice no la tipa abbiamo già cliccata va bene va bene vale allora calendario quindi siamo a misano world circuit in onore di marco simoncelli grande va bene partiamo bombazza allora la moto visto che le caratteristiche sono tutte uguali andiamo con la yamaka infatti possiamo vedere lì frenata 42 tutte uguali sono non cambia proprio nulla opzioni gara quindi è qualifica e gara difficoltà difficile danni leggeri temer penalità sì ok iniziamo la gara ok sereno perfetto meno male che non piove allora messa a punto della moto informazioni sessione ok scendiamo in pista io ragazzi mi sparerò le qualifiche e ci vediamo direttamente al cancelletto di partenza ok ragazzi abbiamo svolto le qualifiche in modo egregio direi allora vediamo un po ci siamo qualificati primi ragazzi perfetto è una gara molto veloce questo tipo che sono tre giri così da facciamo in un battibaleno ok abbiamo accumulato un po di esperienza perfetto ok quindi scendiamo in pista vediamo un po se riusciamo magari a fare qualche giro in più no niente va bene facciamo entrare e siamo lì lì eh valentino l'ho visto già lì di fianco che ci guarda male ok 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 andiamo di non farci sorpassare subito addirittura due giri ragazzi sono già il secondo ok quindi abbiamo già finito ragazzi perfetto perfetto andiamo a aprire un fatto più brutto direi ok ok va bene va bene quindi la yamaka domina eh perché tutti i primi sono con la yamaka abbiamo fatto pure il giro migliore quindi il secondo è 033 perfetto ok partiamo a bombazza ok vediamo di andarlo a beccare subito ok perfetto 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 e anche questa mancia è andata in modo ottimale quindi siamo rimasti in 8 ok abbiamo fatto ancora il giro migliore in 14 set addirittura ottimo direi proseguiamo rimarremo in 6 successivamente ok ok meno male ragazzi che in politica siamo arrivati primi ma guardate che così non abbiamo stamenata qui di partire in ultima posizione attenzione eh andiamo 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 subito a bombazza ottimo direi vediamo che è eliminato vediamo che è eliminato va bene va bene ok valentino sesto valentino sesto un'unica yamaka un'unica ktm ok tutte le altre sono yamaka franco morbidoso è secondo baldassarri è terzo ok però seguiamo rimarremo in 4 andiamo andiamo subito andiamo subito in violenza ok ok un po' larghini l'importante è che manteniamo la testa della gara e anche qua ce l'abbiamo fatta ok quindi siamo rimasti in 4 ragazzi valentino rossi è stato eliminato quindi franco morbidosi morbidelli o morbidoso lorenzo baldassarri niccolo bulega va bene c'è ancora una ktm solo le altre sono tutte yamaka giro migliore abbiamo fatto noi naturalmente 14 950 perfetto proseguiamo rimarremo in 2 l'ora dai dai così noi ci va bene perché riusciamo a partire naturalmente primi e non essere in mezzo al gruppo in modo tale che non ci devono non ci vado a rompere le scatoline perfetto perfetto così questa volta sono 4 giri ragazzi ottimo iniziamo l'ultimo giro è andato più di 2 secondi a quello dietro di noi modalità difficile direi che in questa categoria ce la caviamo egregiamente al contrario dell'ultima gara che abbiamo fatto in moto 3 che non è stata delle migliori direi ok quindi rimaniamo ancora in 4 ma no abbiamo finito così ok chiedevo che facevamo un'ultima manche in 2 però abbiamo terminato tutti in prima posizione eh beh ci ha dato un bel po' di esperienza eh sì per forza ok non c'è nessuno che abbia niente da dirci di bello ok grande oggi sei stato insuperabile complimenti in effetti vi ho dato alla grande complimenti va bene ah c'è anche la gara di drift ma questo lo vedremo successivamente vediamo un po' il calendario quindi gara di drift a Misano ok quarto appuntamento Sepang moto 3 moto 3 a Valencia Monza abbiamo un rail di Monza anche bellissimo ragazzi fantastico direi flat track questo è ancora quello che abbiamo fatto adesso spettacolo ragazzi ok amici io direi che il nostro episodio termina qui spero che la nostra avventura motociclistica vi stia piacendo e se non siete iscritti al canale iscrivetevi se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like vi ringrazio per avermi iscritto ci vediamo con il prossimo gameplay un saluto a tutti da GraceGamer78